Cosa può fare Calamaro Video per te e per la tua attività? In questo momento sto lavorando ad un progetto per un'azienda che mi ha chiesto un video. Io normalmente offro diversi tipi di pacchetti più o meno ampi, ma tutti quanti passano attraverso alcuni passaggi fondamentali. La prima cosa che faccio è identificare l'azienda. Chi è l'azienda? Chi è il titolare o chi la rappresenta? Quanti lavoratori ne fanno parte e chi sono questi lavoratori? Ma soprattutto qual è il prodotto che vendono o qual è il servizio che offrono? Detto questo passo a livello successivo e cerco di capire qual è il valore di questa azienda. Quali principi la muovono? Qual è il loro motto se ne hanno uno? Quale messaggio vogliono portare avanti con il loro lavoro? Questi due passaggi mi servono per arrivare al terzo e capire qual è il bisogno di questa azienda. Perché mi hanno chiesto di fare un video o perché li ho convinti a fare un video? Di cosa hanno bisogno tramite questo video? Vogliono arrivare a un pubblico particolare? Vogliono trasmettere un particolare messaggio? Sono domande fondamentali perché mi permetteranno di capire che taglio deve avere il video? Che linguaggio deve parlare? Quali tecniche devono essere utilizzate? Perché a seconda di dove voglio arrivare e quale messaggio voglio portare sarà fondamentale utilizzare il linguaggio giusto che sia non solo adatto al tipo di canale, al tipo di pubblico a cui voglio arrivare, ma sia anche corrispondente a quello che è l'anima dell'azienda per non snaturare il messaggio. Arrivati alla definizione di questi tre punti, si passa alla creazione del video vero e proprio. Il primo video che propongo è ovviamente un video promozionale, un video aziendale, un video che può avere una durata di un minuto, un minuto e mezzo, tre minuti, a seconda delle esigenze e dei contenuti che si vogliono dare. Questo sarà il video che racconterà all'azienda, in un modo vostro, in un modo mio, una fusione di conoscenze e di emozioni che vorremmo sviscerare e tirare fuori insieme. Questa è la fase in cui butto giù una sceneggiatura, per esempio se il video è particolarmente complesso, o una serie di immagini, di storyboard, se vogliamo, con delle idee di riprese, di concetti che voglio un po' stressare su questo video. Alla fine di questo processo chiaramente condivido il tutto con il titolare, con il rappresentante dell'azienda, per capire se le idee che stanno venendo fuori sono in linea con le loro aspettative e con quello che vogliono comunicare. Completata la stesura e poi la realizzazione di questo primo video, il secondo passaggio che normalmente offro è una serie di piccoli video. 30 secondi, 60 secondi al massimo, qualcosa che serva per evidenziare, non lo so, un particolare prodotto che stanno vendendo in quel momento, un particolare servizio o un particolare aspetto, una lavorazione che stanno facendo in quel momento l'azienda. Quindi avere dei piccoli contenuti per poi utilizzarli in un modo che vedremo successivamente. Il terzo blocco potrebbe essere un'ulteriore serie di video, ma in realtà più probabilmente, come io consiglio, una sessione di formazione. Una formazione mirata a utilizzare i prodotti che sono stati realizzati, il video aziendale ed eventualmente i mini video, all'interno di un piano editoriale da utilizzare nei canali social, che può essere Facebook, YouTube, LinkedIn, Instagram, indifferente. Propongo assolutamente questa formazione in due casi, soprattutto. Il primo caso è ovviamente quello in cui l'azienda non ha assolutamente nessun tipo di conoscenza dei canali social. Per me a questo punto la formazione è veramente essenziale. Si tratta di 2-3 ore al massimo, che servono ovviamente non per dare una formazione esaustiva sull'argomento, ma almeno per dare un minimo di strumento per far capire all'azienda come utilizzare questi video all'interno dei canali social, che ovviamente hanno delle regole, che ovviamente hanno una struttura e che ovviamente devono essere seguiti in un certo modo per raccogliere dei risultati. Fare un video e investire anche una certa cifra in un prodotto che poi non viene utilizzato per ottenere un risultato maggiore, non serve a niente, a meno che chiaramente questo video non sia stato fatto appositamente per, che ne so, un congresso, una fiera o per motivi aziendali interni, ecco, per formazione interna o qualunque altra cosa. Se faccio un video per raccontare la mia azienda, qualunque sia l'obiettivo del video, devo poi essere in grado di sfruttarlo e di utilizzarlo nei canali social per raggiungere il maggior numero di pubblico possibile. Il secondo caso ovviamente è quello in cui magari l'azienda ha qualche conoscenza di canali social, li sfrutta già magari in piccola parte, però ha bisogno di ottimizzare la pubblicazione dei loro contenuti in questi canali e quindi incrementare la visibilità che si può ottenere su questi canali e quindi anche in questo caso utilizzare meglio i video che vengono proposti. Una volta fatto questo passaggio, quindi creato un video aziendale, creato magari dei mini video su dei prodotti specifici e poi fatta una piccola formazione su quello che può essere l'utilizzo di questi video per massimizzare i risultati che io posso trarre da questo prodotto, si passa all'analisi del risultato ovviamente, è fondamentale questa parte, ovvero ok, ho fatto una spesa, ho ottenuto un prodotto, lo sto promuovendo, lo sto facendo vedere, mi aspetto un certo risultato, mi aspetto un certo ritorno di un qualche tipo, indifferentemente se l'obiettivo del mio video era farmi conoscere da più persone oppure farmi riconoscere, farmi scoprire in una veste diversa per magari attirare un pubblico differente o lanciare una nuova linea di prodotti oppure presentarmi in un modo diverso per, non lo so, attirare nuovi investitori ad esempio. Indifferentemente qual è l'obiettivo? devo monitorare questo obiettivo per sapere se l'azione che ho fatto, che ho intrapreso, è servita a raggiungere lo scopo che mi ero prefissato all'inizio. Questo è fondamentale per capire se l'investimento è rientrato o mi ha creato addirittura un guadagno e quindi puoi sapere come fare per replicarlo o per continuarlo nel tempo. Se anche tu pensi di avere bisogno di questo intervento o per lavorare su un progetto simile o semplicemente per avere qualche informazione su questo, non esitare a contattarmi e parliamone. A presto!